5 milioni di euro a disposizione delle piccole e medie imprese fino al mese di ottobre ad annunciarlo alla Confesercenti definendola un'azione straordinaria con condizione particolarmente agevolata per i richiedenti. A poter presentare domanda sono tutti i piccoli imprenditori, compresi i giovani e start-up. Per offrire un numero maggiore di opportunità la somma massima richiedibile è di 100.000 euro. Tra gli incentivi offerti da Confesercenti la maggiorazione della garanzia che passa dal 50 al 70%. Con questa possibilità della garanzia al 70% le banche sono molto più stimolate a dare il contributo, il finanziamento alle imprese. Quindi invito tutti i piccoli e medi imprenditori abruzzesi, noi abbiamo 12 sedi in tutto Abruzzo, basta andare sul nostro sito e si trovano, a contattare il nostro personale che è preparato e si raccolgono i documenti reddituali e insieme si va alla banca e si istruisce la pratica di finanziamento. Quindi questo è il momento buono per approfittarne perché questi 5 milioni di euro possono essere in questo momento che si dice che c'è una piccola ripresa.